Il Comune di Teramo ha deciso di anticipare le somme del CAS, contributo di autonoma sistemazione riferito al mese di maggio e giugno alle famiglie rimaste senza casa per i danni causati dal terremoto del centro Italia, che in città sono ancora circa 700. Somme che rappresentano un importante sostegno per queste famiglie, la maggior parte inquilini Ater, che risultano ancora sfollati. Erogazione che ricordiamo è a carico della protezione civile che però stanze le somme ai comuni con tempi lunghi. Come ormai di consueto, la prassi del Comune è quella di anticipare le somme relative al CAS, proprio per dimostrare la nostra vicinanza alla collettività, soprattutto agli sfollati che ancora oggi si trovano fuori dalla loro abitazione. Quindi vivono questo disagio fortissimo della propria quotidianità perché ancora non riescono ad entrare nelle proprie case. E' chiaro che dobbiamo continuare a farlo finché la ricostruzione non partirà e finché soprattutto gli inquilini delle case popolari, degli inquilini Ater non rientreranno nelle proprie abitazioni. La questione riguarda soprattutto gli assegnatari di case popolari, dove l'incertezza nei tempi di rientro di questi cittadini nelle loro abitazioni, molte delle quali classificate come B, rappresenta un importante punto di debolezza dell'intero sistema. I numeri sono alti proprio della ricostruzione pubblica perché in realtà quella privata è partita e il problema è questa doppia modalità della ricostruzione che evidentemente è molto farraginosa. E' chiaro che tutte le istituzioni devono lavorare in maniera sinergica affinché si possa finalmente far rientrare tutte queste persone dentro casa e questo stiamo facendo, il sindaco in prima linea in questo. Tra le criticità sollevate più volte da residenti in attesa di rientrare nelle proprie abitazioni, anche quella relativa alla tutela della proprietà e dei beni. Per questo motivo l'amministrazione ha annunciato di essere al lavoro in stretta sinergia con le forze dell'ordine per evitare il ripetersi di queste situazioni, offrendo all'Ater, ente proprietario e quindi responsabile della messa in sicurezza del proprio patrimonio, la massima collaborazione.